Buongiorno a tutti, in questo video voglio mostrarvi le funzionalità del nuovo bot pre-match di I'mTrader il bot che apre e chiude operazioni pre-match e per pre-match intendo operazioni che non saranno poi prese in live quindi tutto a palla ferma senza il rischio dei gol del live, quindi il classico trading pre-match tutto questo è automatico quindi dovete solo avviarlo, dopodiché il bot farà tutto, opererà e chiuderà in take profit e in stop loss le operazioni iniziamo col farvi vedere come è impostato il bot qui c'è il filtro volume, il filtro volume intende che il bot andrà a scanalizzare solo partite che hanno un'abbinate almeno di 20.000 euro in questo caso, si può modificare, qui è stato inserito 20.000 euro come campo di qui avete lo stake da inserire quando si aprono le operazioni in questo caso 100 sono 100 euro che ogni volta che lui aprirà un'operazione e quindi troverà un'occasione inserirà come stake qui ci sono i due pulsanti di take profit e di stop loss 1 tick e 3 tick, cosa vuol dire? che se noi entriamo, quindi il bot entra in un'operazione a punta 1.80 andrà in take profit con una bancata e quindi inserirà una bancata di pronotazione a 1.79 quindi di 1 tick, ovviamente questo si può cambiare e di qui lo stop loss è la stessa cosa, quindi se noi entriamo in punta a 1.80 prenoterà uno stop loss a 1.83 se impostiamo 3 tick di stop loss, ovviamente anche questo si può modificare questi pulsanti li vedremo nell'academy, quindi li riserverò per le persone che saranno dentro nell'academy massima quota da lavorare, che cos'è? la massima quota che il robot, quindi il bot, andrà a scannerizzare quindi al di sopra dei 2.90 in questo momento e anche questo si può modificare non prenderà in considerazione occasioni e quote e match tutto questo vi ripeto in modo automatico, quindi lui aprirà e chiuderà le operazioni in modo automatico ora prima di avviarlo vi voglio far vedere che nel mio conto non ci sono, vedete qui, lo riclicco non ci sono operazioni, quindi vedrete, vedete qui, quindi è tutto azzerato non ci sono operazioni aperte, io adesso avvierò il bot e ovviamente se ci saranno occasioni lui inizierà ad aprirli, allora il bot è qui, clicchiamo il pulsante avvia, lui inizia a lavorare adesso tra poco vedrete il palinsesto di Betfair che apparirà, man mano lui scannerizzerà le voci con volume di almeno 20.000 perché qui abbiamo impostato un volume di almeno 20.000 e inizierà ad aprire operazioni con 100 euro di stake da quota massima 2.90, quindi da 2.90 in giù ora sta scannerizzando tutto il palinsesto, ci vuole un pochino perché ovviamente le partite sono molte e andremo a prendere in considerazione solo quelle che a noi interessano, quindi le altre le scarterà e inizierà calcolate come vedete ok, calcolate che lui ogni secondo quasi va a scannerizzare un palinsesto, quindi vedete da tutte quelle che c'erano lui ha preso in considerazione Sporting, Juventus, Roma, Feyenoord, Siviglia, Manchester, per ora sono queste perché come vedete total match, volume di gioco almeno 20.000 e qui ci siamo 24, 67, 46, qui sono praticamente a parte il nome dell'evento e la data e l'ora, qui sono le quote in punta e in banca delle varie sezioni 1, 2 e X, se scorriamo in qua andiamo a vedere qui se ci sono operazioni aperte, in questo momento lui scannerizza, ovviamente scannerizzato da ieri questa operazione che è chiusa con pochi centesimi di profitto ma chiusa, quindi per lui comunque non è un'operazione aperta, ora io spero che in questo video vi posso far vedere che apre in automatico le operazioni perché deve ovviamente trovare un'occasione per entrare, ok vediamo che ha aperto, vedete quest'operazione che si riferisce a Siviglia Manchester, ora vado sul mio conto e vedete ha aperto, ha aperto, guardate, occasione in punta e ha aperto intanto il take profit, quindi ha un tic sotto da 2.06 a 2.04, totalmente automatico, ciao! Qui ti mostro come l'operazione si è chiusa in automatico, come vedi sulla destra 2.06 di punta e 2.04 di banca, tutto in automatico, te lo ripeto, il profitto è stato del 2% perché 2 euro lordi su 100 euro sono il 2%, 1 euro 91 sono perché ci sono le tasse di Betfair, al cash out è 1.092, quasi un 1% netto, quindi 0.92 netto se si spalma la vincita su tutte e tre i segni. Grazie a tutti! Grazie a tutti!